Metodo, pratica sul campo e sfide concrete da affrontare con entusiasmo. Tutto questo è Kaizen Coach, il training per guidare un team orientato al risultato e tradurre gli obiettivi aziendali in cantieri di miglioramento continuo. Poca teoria in aula e molta pratica sul GEMBA, il vero luogo dove si crea il valore. La sfida è migliorare i tempi di risposta al cliente, riorganizzare la filiera delle spedizioni, rendere più reattiva la produzione custom, progettata ad hoc sul cliente. ESMAC da 50 anni produce impastatrici, macchine e forni per il mondo della panificazione. Dal 2013, con 4 anni di cantieri Kaizen, abbiamo rivoluzionato la fabbrica. Abbiamo anche aumentato la produttività e la risposta alle esigenze del mercato. Con Kaizen, inoltre, abbiamo risaldato il rapporto con i fornitori e ridotto le scotte a magazzino. ESMAC Lab è una panetteria chiave in mano che restituisce la notte ai fornai e permette loro di lavorare solo di giorno.